Due ore di sciopero alla Pierburg di Atessa per protestare contro le affermazioni del presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Lo sciopero è stato indetto dall'RSU di FIOM e Wilm. I lavoratori non possono accettare di essere offesi gratuitamente da un personaggio che nemmeno immagina cosa significhi vivere nelle fabbriche di oggi, con ritmi devastanti e stipendi da fame, scrivono in una nota le maestranze della multinazionale americana che produce pompe per l'acqua e collettori per auto. E a Marcegaglia, che due giorni fa auspicava un sindacato che non protegge assenteisti cronici, ladri e quelli che non fanno il loro lavoro, suggeriscono di chiedere scusa. Nessuno può permettersi di rimettere in discussione il diritto di ammalarsi, di scioperare, di richiedere i benefici che le leggi di questo paese mettono a disposizione dei lavoratori, si legge ancora nella nota. La Marcegaglia, conclude la nota dell'RSU, farebbe bene a chiedere scusa a una classe opera che in questi anni ha arricchito le casse dello Stato e delle aziende di questo paese, comprese quelle di proprietà Marcegaglia.